Allora con mister Ardito dell'Atletico CVS domandiamo qualcosa su questa partita partita molto difficile contro la seconda in classifica che pensi di questo risultato? Risultato credo giusto per quello che si è visto in campo grande prova di carattere, prova atletica e soprattutto tattica della squadra modulo nuovo che da un paio di settimane stiamo provando grazie alla disponibilità dei ragazzi ed è facile quando si ha un gruppo con questa disponibilità questa voglia di sacrificio dove tutti, anche l'ultimo che entra all'un minuto dalla fine è come se fosse in campo dall'inizio quindi grazie a tutti loro ottengono questi risultati Bene, adesso i punti si sono accorciati adesso siamo a tre punti dallo spino a seconda con il crema raggiungibile quali obiettivi per il prossimo futuro? Il nostro obiettivo è di esprimere un bel gioco e cercare di rimanere lì nelle zone alte questo è l'obiettivo nostro poi se il crema ottima squadra sbaglierà qualche colpo noi dobbiamo essere bravi a recuperare e aspettando lo scontro diretto basta